Prosegue l'impegno per la trasparenza del Consiglio regionale del Piemonte. Sono stati resi disponibili sul sito internet cr.piemonte.it i dati relativi alle nomine degli enti partecipati della Regione, con il quadro completo degli amministratori nominati sia dal Consiglio che da altri enti. Inoltre è stato pubblicato per la prima volta l'albo dei soggetti beneficiari di contributi per eventi, manifestazioni e iniziative attuate nel corso del 2011.